Ciao ragazzi, siamo skyblock, multi skyblock, lui non capisce come si fa sta roba, non si fa così però, ma si può fare anche così? Wow, non sapevo, va bene, perché io non l'ho mai fatto così, l'ho sempre fatto con il metodo tradizionale, ok, ora metti lì la lava, qua si leva per non sprecare terra, capito? Così, ok, metti lì la lava, e ora dobbiamo fare gli alberelli, serve lì, ok, non voglio mettere blocchi d'erba per ora, ok, ingrandiamo, no, l'ho perso perché sono morto, oh, però sono un idiota, gli alberi li devo mettere qui, se no, se moriamo, poi è la fine dei tempi, domani ragazzi c'è multicraft, si inizia a rifare video su questo server, fine, fine, cosa? Cosa non va? Va a comprare anche il legno? Perché? No, anzi, q, i, e, terra, per finire lì, ne basta uno, ecco, benissimo, è per ora, spero, c'è un bug assurdo, se riesco a prenderli, ok, 24 sono tanti, ne bastava uno, ah, sono 25, comunque, tua, tau, in che senso, tau, tau, così, è abbastanza grande per il momento, ora dobbiamo solo aspettare che che scano le cose, cresci alberum, crescim, ah, una bella doccia, peccato che è il fuoco, intanto è arrivato il giorno, si è messo a piovere, la lava fuma, fumatrice, non fa bene ai polmoni, se la lava ha i polmoni, giusto? È sparito, sì, 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 albero, finalmente del legno, ah, ha preso il coso lì, il bone meal, ok, uno lo tengo così, ecco, ok, adesso, facciamo il piccone che io avevo, ma ho perso, eeeh, vai col piccone, mettiamolo qui dentro, l'alberello, e finalmente spacchiamo la pietra, dopo tutto questo, andiamo a sistemare il generatore, mi prendo il mio secchiello, tolgo questo coso, prima prendo la pietra lui, vabbè, faccio anche intanto che lui non, non so cosa ho detto, vabbè, intanto io faccio il tipo qui, ok, veloce, puff, che velocità, puff, 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 devo prendere la lava? La prendo? presa, ecco, basta sostituire questi cosi qui, ed è facile, ecco, tieni qua, ehi, qui, allora poi, il piccone l'ho messo in una cesta, che genio, ahah, sta già sistemando per bene, ok, benissimo, ora, basta col blocco lì, e poi abbiamo fatto, fatto, finito, ora metti lì la lava, metti lava, e dammi set, ok, e però, intanto io qui metto la roba, un tizio chiede se vuole, dice che vuole venire qui con noi, che cosa faccio? Ok, non lo faccio venire, va, ok, lui sta facendo la coltivazione, perché? Ma cade la sabbia, ah, non voglio che sto tizio veniva qui, ok, allora, ci serve dell'acqua da mettere di vicino, perché sennò poi, ok, io ho fatto il suicidio, prendo uno di questo tipo qui, e vado, asp, levati, levati, ah no, ha ragione lui, metti acqua, ah, come ho scritto? acqua, lì, nooo, cosa, cosa c'aveva? Uh, meno male, sai che ce l'ho ancora io? Nooo, eh, adesso però non si può più fare la coltivazione, perché abbiamo solo uno di acqua, vabbè, la facciamo senza, eh, come che ti dico? Ok, allora, prendiamo subitissimo questo, questo, e basta, questo c'è già, e questo, questo è un semi di zucca e questo è di anguria, e basta, non c'è altro da fare per adesso. Questa è la coltivazione più bella che abbia mai visto. Ah, almeno si è deciso di fare qualcosa, ingrandisce. Ok, e io lo aiuto con tre, ecco. Uno, due, tre, e bensì quattro pezzi di terra. Ah, ma sta facendo un ponte, un ponte? Perché è un ponte? Perché? Perché sta facendo un ponte? Ma cosa sta facendo? Sta facendo un ponte. Bene, questo l'avevo visto. Poi questo ponte, non capisco a che cosa serve sto ponte, non capisco a cosa serva. Mi bastava un blocco per arrivare fino laggiù, se voleva arrivare fino laggiù. Questo episodio, in effetti, si chiamerà il ponte, e tutti i suoi misteriosi misteri. Vabbè. Vabbè, ragazzi, questo era multi-skyblock, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!